buongiorno oggi parleremo di dmr itera un mondo caotico di primo acchito grazie a questa guida sarà tutto più chiaro questa guida si applica a parecchi portatili e mobili in sei minuti spiegheremo contatti rx group list canali scanner roaming zone e bottoni iniziamo con il nostro id personale per essere inserito tre volte common setting iniziamo inserire il nostro nominativo quello ricevuto con il superamento dell'esame nel mio caso hb9 fvb seguito dal mio nome arti continuiamo quindi con l'inserimento dell'id personale dato dalla rete dmr ecco qua questo è il primo posto dove si deve inserire la cella min radio id benissimo la seconda volta dobbiamo inserirlo sarà stato conventional general setting network anche in questo caso dovremo inserire il nostro id dmr voilà e infine sotto digital common basic l'ultima volta sempre il nostro dmrd questo è il primo contatto cioè il nostro adesso parleremo di quelli esterni andiamo quindi sotto conventional quindi dmr services e contact a questo punto ci si aprirà questa schermata e sulla destra potremo scegliere il bottone add ci si aprirà una nuova casella dove potremo inserire la descrizione del contatto definiamo quindi che genere di contatto è in questo caso un contatto privato e infine dobbiamo specificare l'id della persona questo è per registrare un contatto di una persona di un operatore singolo per raggiungere quello di un gruppo definiamo come si chiamerà questo gruppo in questo caso tg13 lingua inglese quindi metterò eng specifichiamo che in questo caso il genere di chiamata di gruppo è già selezionato e terminiamo con la definizione dell'id un'altra cosa molto importante è creare delle liste di ricezione le troviamo anche questo caso sotto dmr services alla voce rx group list ne creiamo una nuova per questo esempio che denominerò rx list non c'è motivo specifico per averne più di una a questo punto potremo scegliere dal menu di sinistra i tool group che desideriamo utilizzare in questa lista nel mio esempio userò il tg tattico 113 il tg 13 entrambi inglesi aggiungiamo ora canali e frequenze clicchiamo su conventional channel digital channel cliccando col tasto destro scegliendo add aggiungeremo un nuovo canale che si posizionerà in fondo alla lista di quelli già precedentemente creati potremo denominarlo in questo caso andremo configurare il ripetitore victor eco sette romeo alfa golf canale che parlerà sullo slot 1 s1 scegliamo lo slot di operazione come detto l'uno e definiamo quindi la frequenza 438,600 con il cps terra non sarà più necessario fare il calcolo dello shift ma semplicemente specificarlo ecco fatto che il computer ha già calcolato lo shift corretto la rx group list selezionata deve contenere i tool group che si vogliono ascoltare senza di questo la radio non decodificerebbe il qso andiamo inoltre a scegliere dove trasmettere quindi alla pressione del ptt cosa andremo a chiedere in questo caso mettiamo il gruppo tg13 inglese un piccolo consiglio potrebbe essere di cambiare il time out di trasmissione e di portarlo da 60 secondi a infinito un altro consiglio riguarda la potenza che può essere messa direttamente alta selezioniamo conventional e quindi scan tasto destro su scan add e verrà aggiunta la nuova lista di scan la selezioniamo e potremo quindi scegliere i canali che desideriamo che vengano scansionati essendoci la possibilità di creare molteplici liste è molto utile utilizzare correttamente l'alias questo ci permetterà di poterle selezionare correttamente qualora volessimo impiegarle una volta creata la lista scan andremo a applicarla sui canali direttamente scegliamo il canale sul quale applicheremo la lista scan per creare una nuova lista di roaming bisogna anticipatamente annunciare che canale sarà disponibile semplicemente apriamo il canale e mettiamo la spunta alla voce IP Multisite Connect andiamo a questo punto su Roam tasto destro add verrà quindi creata una nuova lista di roaming se andiamo a selezionarla dal menu di sinistra possiamo vedere tutti i canali che presentano la spunta IP Multisite Connect facciamo un esempio che ci siamo dimenticati di mettere la spunta in questo caso la tolgo come se non ci fosse come possiamo vedere il canale non appare più in questa lista di sinistra andiamo a rimetterla immediatamente ed eccola qua perfetto ora possiamo aggiungere tutti i canali che vogliamo nella nostra lista di roaming infine possiamo definire un alias per questa lista roaming per poter applicare la lista di roaming si segue la stessa procedura della lista scan passiamo ora alla fase finale ovvero la creazione delle zone che in questo caso sceglieremo conventional e quindi zone tasto destro add si aggiungerà la zona in fondo alle precedenti cliccandola possiamo rinominarla in questo caso Canada selezioniamo quindi dal menu a sinistra i canali precedentemente creati io sceglierò i ripetitori canadesi Vittorio Cosette e Romeo Alfa Golf si noti che di default la zona non può essere vuota è stata creata con il primo canale che ha trovato in lista questo canale potrebbe non essere desiderato lo selezioniamo e quindi Remove dopo aver creato diverse funzioni risulta utile potervi accedere in modo rapido dalla radio per fare questo sceglieremo conventional General Settings Buttons da questa schermata si possono scegliere tutte le funzionalità che si vogliono eseguire alla pressione dei tasti sotto il button preview ci si aprirà un'immagine che spiegherà che tasto corrisponde a quale sigla per ogni commento o suggerimento vi invito a scrivermi grazie e alla brospi grazie a tutti grazie a tutti